Stime Bramzane, sono un olanda perma, in cui è semesterno legno contro il tourè, dal colore della maia imparava a giocare contro i testi quadriarsani. In tal perma mancavano Bruno Alves, inglese, Gervino e Biabiani, infermeria piena, completa. Dopo la partita di D3 si rifuginò Clemès contro il tourè e ma sarà che di recuperare almeno un ponte, anche se alla fine del primitempio, Fiac Bombè, il permalestà inferiore ai granati a targature. In tal secondo tempo, sempre Fiac, Gagliuolo si mangia un gol a quattro metri dalle porte. Dopo quando scambi il bello per tutti i due squadri, il turinese parigini è partita e sbaglia il tiro, però non è poi la sera andare a un giocatore che la maniera è lì. Il mister ha pensato di fare un cambio. L'importante è che la mia amica mi sceglie il caccio, che dopo la figura di Frosinò, aveva bene a sceglie il caccio di frutta, mi aveva mai chiesto quando ero ragazza. un permalestà con la lingua fuori, lasciò fare bombe fino alla fine. Le finite, dopo cinque minuti di recupero con un pareggio e un ponte d'or e con altri cinque due del mister daversa, i giocatori i vanno a fare la doccia con un giocamento da parte del pubblico e con un pareggio dopo aver perso tre partiti a fila. insieme a 34 punti, una boccada d'oxigeno. Dunque, Pramzani, escevdem a domenica quen, con se soli, a res, in ca di testi quadri, e in ca l'enda da ben bombe che si. Un saluto a tutti i Pramzani! Giamma Svist!